Dopo due ricorsi persi dinanzi al TAR per quanto concerne la centrale SNAM di Surmona, le associazioni ambientaliste chiedono alla Regione e ai Comuni di proseguire con un ricorso al Consiglio di Stato. La battaglia prosegue su tutti i fronti, su quello legale, su quello politico istituzionale e per quanto riguarda anche la mobilitazione dei cittadini. Sul piano legale chiediamo che sia la Regione che i Comuni, a cominciare dal Comune di Surmona, impugnino immediatamente le sentenze con cui il TAR ha respinto i ricorsi. Sul piano politico istituzionale continuiamo ad insistere affinché il Ministro dell'Ambiente e il Ministro dello Sviluppo Economico riaprano la questione SNAM e quindi facciano una nuova valutazione di impatto ambientale, venga fatta la valutazione ambientale strategica e quindi venga anche bocciato il metanodotto sul quale non c'è ancora stata la decisione autorizzativa. Sul piano della mobilitazione dei cittadini noi domani mattina organizzeremo una manifestazione perché verrà la SNAM per prendere possesso del luogo dove installare le centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Noi effettueremo un sit-in contro la SNAM per evidenziare ancora una volta che il territorio è di chi ci vive e non delle multinazionali. A fine mese ci sarà un evento di due giorni che vede insieme i comuni, le amministrazioni pubbliche e i cittadini all'Aula Consigliare del Comune di Sulmona dove verranno affrontati sia gli aspetti giuridici, quelli relativi al rischio sismico, gli aspetti energetici e verrà quindi rilanciata la lotta per impedire la costruzione sia della centrale che del metanodotto.